Ciao a tutti amici, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video improvvisato in macchina perché voglio fare il punto della situazione per quello che riguarda Resident Evil Village che uscirà ormai fra poche ore, ci separano poche ore dall'uscita di Resident Evil Village quindi volevo fare un po' il punto della situazione su quello che sappiamo di questo gioco, di questa trama praticamente il gioco riprende ancora una volta come protagonista Ethan Winters che ho scoperto si chiamasse Winters di cognome, solo dai trailer di Resident Evil 8, Resident Evil Village non credo fosse stato mai nominato il cognome nel Resident Evil 7 abbiamo quindi un Ethan Winters che è sfuggito, è sfuggito miracolosamente agli orrori della casa di Beck quella pazza famiglia infettata purtroppo dal virus di Evelyn che è una bambina che era presente in una nave da trasporto, doveva essere trasportata probabilmente in America dalla corporazione criminale The Connection nella quale appunto lavorava anche Mia, la moglie del protagonista Ethan riesce a scappare a uccidere Evelyn che si rivelerà poi la vecchietta insomma che era lì con la famiglia Baker perché ormai prosciugata diciamo dal virus proprio a livello di età proprio alla fine lui riesce a scappare e viene salvato niente proprio di meno che alla fine da Chris Redfield ragazzi Chris Redfield che fa parte dell'organizzazione Blue Umbrella chiamata così per cercare di redimere tutti quei fatti incresciosi diciamo affiliati al bioterrorismo della vecchia Umbrella mi piace perché si chiama Blue Umbrella proprio per il contrasto del colore blu con l'icona diciamo dell'Umbrella che era quella rossa e bianca, rossa e grigia cosa succede? Quindi Chris Redfield gli dice state tranquilli, state bene e quindi quello che sappiamo in Resident Evil 8 Village è che Ethan torna a casa inizia una nuova vita con sua moglie, sembra che tutto vada bene anche se lei comunque ha degli incubi eccetera riescono addirittura ad avere una figlia che si chiama Rose poi però ad un certo punto Chris Redfield ritorna ragazzi Chris Redfield ritorna, entra in casa, mette fuori combattimento Ethan e uccide barbaramente a colpi di pistolettate la povera Mia non contento di ciò rapisce addirittura la bambina, la figlia Rose e non si sa come la bambina probabilmente o gliela porta a lui in qualche modo comunque finisce in questo villaggio comandato da alcune fazioni in modo particolare da questa madre Miranda che dovrebbe essere una santona che proteggeva inizialmente il villaggio poi però dicono che quando è arrivata Rose tutto è andato a puttane insomma poi ci sono i vampiri la gnoccona della vampirona Dimitrescu i licantropi e altre bestie simili quindi a un certo punto Ethan decide giustamente di tornare nel villaggio cioè di andare in questo villaggio e di iniziare la sua avventura alla ricerca della figlia quindi la cosa che mi perplime un attimino è la figura di Chris Redfield la figura di Chris Redfield che cosa vorrebbe dire? che Chris inizialmente buono alla fine di Resident Evil 7 è diventato cattivo e va a rapire la figlia Rose per darla a questa madre Miranda misteriosa anche dai trailer, dai poster si vede mezza faccia di Chris e mezza faccia di lupo quindi non vorrei mai che avessero fatto il grande passo e avessero fatto diventare Chris un villain magari tra Resident Evil 7 e Resident Evil Village questo è quello che sappiamo diciamo al momento di Resident Evil Village vi ricordo ragazzi che inizieremo a giocare da domani sera alle 21 sul mio canalino umile su PlayStation 5 attenzione lo giocheremo su PlayStation 5 quindi 4K HDR 60 frame al secondo e chi più ne ha più ne metta potrete chiaramente partecipare attivamente alla diretta i vostri messaggini saranno visibili in basso a sinistra e quindi che vi devo dire ragazzi ci vediamo domani sera belli carichi ciao 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 ciao